Salve a tutti cari amici di Orbolandia da Filippo De Santis e ben ritrovati per questo quarto tutorial riguardante Numbers per il Mac. In questo quarto tutorial appunto vedremo una delle funzioni un pochino più inerenti alle specifiche funzioni di Numbers, ovvero i calcoli e quindi le formule. Allora, ho già aperto Numbers, creiamo un nuovo foglio di calcolo, quindi Command-N e andiamo nella raccolta dove poter scegliere appunto il file. Interagisco in raccolta recenti sezione di base sezione vado nella sezione di base, interagisco, do invio, interagisco. Allora, facciamo una brevissima premessa, i fogli di calcolo appunto servono a far fare calcoli a questo, diciamo, strumento, quindi Numbers, inserendo dei valori all'interno delle celle e immettendo eventualmente delle formule in celle adiacenti o comunque in una posizione da noi stabilita dove poter ottenere poi dei risultati. Allora, la prima cosa che faremo sarà inserire alcuni numeri, cose molto semplici che poi potremo appunto verificare anche facendo un calcolo a mente. Allora, mi, diciamo, sto su una cella, verifico perché poi parlando mi distraggo e mi perdo. Allora, stiamo sulla colonna C, andiamo sulla colonna B, la prima, e dovremmo stare sulla cella B2. Qui vado ad inserire un valore, inserisco semplicemente un numero tipo colonna B, riga 3. Abbiamo inserito il numero 3, non c'è detto nulla, do invio, riga 3. Alla riga 3 inserisco un altro numero. Corsori alla fine del testo, stile tabella 2, 2. Azioni disponibili. Quindi abbiamo due celle, nella riga, nella cella B2 abbiamo il numero 3 e nella cella B3 abbiamo il numero 2. Colonna B. Nella cella sottostante potremmo far fare, potremmo inserire una formula che calcoli la somma, il prodotto, quello che sia, quello che vogliamo, di queste due celle. Allora, intanto iniziamo dalla somma. Come si fa a inserire una formula? Il, come dire, la formula, scusate il gioco di parole, per inserire una formula è innanzitutto inserire il segno dell'uguale, quindi sarebbe shift 0. Editor formula, campo di testo modificabile. Ci dice editor formula, perché io ho digitato appunto il segno dell'uguale. E qui scriviamo, parentesi, aperta la parentesi tonda, parentesi sinistra, B2, più, 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 B, scriviamo, 3. Chiusa parentesi, parentesi destra, invio. Naturalmente il cursore si è posizionato alla riga sottostante e adesso torno su con il cursore, con la freccia su. Colonna B5 risultato formula. Ci dice 5 risultato della formula. Adesso alla riga sottostante, alla cella sottostante, facciamo fare invece il prodotto di queste due celle, ovvero facciamo fare B2 per B3. Quindi vado, riga 5, risultato di nuovo il segno dell'uguale, parentesi, aperta parentesi, quindi parentesi sinistra, parentesi sinistra, faccio B2 e poi il segno della moltiplicazione sarebbe l'asterisco, quindi shift più, moltiplicato per B3. Chiusa parentesi, quindi parentesi destra. Do invio anche qui. Al solito dobbiamo tornare su, dobbiamo tornare su con la freccia su per sentire il risultato della formula. Colonna B6 risultato formula. Ci dice 6 risultato della formula. Naturalmente possiamo inserire tutti i, diciamo, quattro operatori matematici. Allora, così rapidamente, il segno più è il segno più, cioè l'addizione si fa con il segno più, la sottrazione con il segno meno, cioè il trattino, e il segno, la moltiplicazione è l'asterisco, il segno di divisione è la barra, parentesi sarebbe shift 7 della linea dei numeri nella parte alta della tastiera. Ma noi possiamo fare anche altro, possiamo fargli fare anche delle formule un pochino più complesse che si chiamano funzioni, cioè, nel senso, possiamo inserire delle funzioni che sono interne a Numbers stesso. Per fare questo, io, diciamo, ho già preparato un piccolo foglio di calcolo dove ho inserito una serie di numeri in modo tale che, insomma, la cosa non debba essere lunga proprio per l'inserimento. Quindi, chiudo intanto questo, chiudo questo, non mi interessa, lo eliminiamo e andiamo ad aprire il foglio di calcolo che, appunto, ho preparato. Allora, ci posizioniamo nella cartella documenti, quindi command shift o, e poi la sottocartella fogli di Numbers, e quindi, eccola qui, freccia destra, e poi abbiamo prospetto voti, il foglio di calcolo prospetto voti, che è il file che ho preparato. Eccolo qua, do invio e apriamo prospetto voti. Adesso, rapidissimamente, l'ho preparato per evitare il dover digitare tanti valori, ma vi faccio vedere, scorrere, scorrere rapidamente il suo contenuto. Adesso, intanto, una cosa che voglio farvi vedere, che con un comando tastiera, command, option, freccia su, ci possiamo posizionare rapidissimamente sul primo elemento di una determinata colonna, della colonna su cui siamo, oppure con command, option, freccia giù, sull'ultimo, cioè quello più in basso. Quindi faremo questo, command, option, freccia su, primo valore della colonna, ci dice primo valore della colonna, e poi andiamo a scorrere verticalmente con le frecce, appunto, con la freccia in basso. Colonna italiano, c'è la intestazione riga. Allora, abbiamo la colonna più a sinistra, contiene le materie di questo ipotetico studente, diciamo, a destra, nelle altre celle, abbiamo i relativi voti che ha, diciamo, ottenuto al primo e al secondo quadrimestre. Adesso, sentite, le materie, italiano, matematico, latino, greco, scienze, fisica, lingua straniera, c'è la intestazione riga. Ok. Nella A15, la A15 è una riga vuota, e sotto questa riga vuota c'è l'intestazione di riga che è media, il titolo, diciamo così, media, ma a destra non c'è assolutamente nulla. Freccia destra, mi dice primo quadrimestre, ma è vuota. Adesso, command, option, freccia su. Primo quadrimestre, c'è la intestazione colonna. Mi dice l'intestazione della colonna, se scendo in basso, cominceremo a scorrere l'elenco dei vari voti. Italiano 6, matematica 7, latino 6, greco 6, scienze naturali o fisica 8. E via dicendo. Quindi abbiamo tutta una serie di valori del primo e anche del secondo quadrimestre. Adesso sentite a destra. Secondo quadrimestre 9, lingua straniera 8, filosofia 7, storia 7. E via dicendo. Quindi abbiamo una serie di voti che ho inserito io così arbitrariamente per tutte le materie e voglio fare in modo di calcolare la media del primo e del secondo quadrimestre a questo studente. Allora, ci posizioniamo, command, freccia sinistra, sulla riga di intestazione. Con command, option, freccia giù, andiamo sulla riga dove potete inserire, cioè del titolo dove potete inserire poi la media, freccia destra andiamo sulla cella vuota dove dobbiamo inserire la formula per far calcolare la media di tutti questi voti. Allora, la media, diciamo, uno dovrebbe fare la somma e poi dividere il valore ottenuto per il numero degli elementi, diciamo, presenti nella colonna. Noi avevamo visto che questa colonna, cioè i voti sono presenti e registrati dalla colonna 2, dalla riga 2 alla riga 14. Per far calcolare questo con le formule preimpostate di Numbers, dobbiamo inserire dei cosiddetti riferimenti di cella. Allora, la formula è questa. Media, aperta parentesi, B2 in questo caso, due punti, B14, che è l'ultimo elemento in cui sono presenti i voti. Chiusa parentesi. Allora, e questo è quello che faremo. Editor formula e campo di testo modifica M, E, B, A. Allora, ho scritto la parola media, parentesi sinistra, media funzione. Allora, e qui scriviamo, abbiamo detto B, B2, due punti, scusate, B14. Chiusa parentesi, quindi parentesi destra, parentesi destra, chiusura della funzione media. Primo quadrimestre 6,69, risultato formula. Ecco qui, primo quadrimestre 6,69, risultato formula. 6,69. Ma io posso fare anche un'altra cosa. Quindi utilizza i tasti freccia per espandere la regione per il riempimento. Quando, diciamo, abbiamo una situazione simile a questa, posso far calcolare, diciamo, lo stesso, la media in questo caso, cioè una formula identica a quella che avevamo digitato alla colonna a fianco. In che modo? Copio la cella e quindi posizionandomi su di essa. Ecco, mi do il comando di copia, copia, command C, e mi sposto poi sulla colonna a destra adiacente, in questo caso, mi dice secondo quadrimestre, non dice nessun valore e vado ad incollare con command V la formula in questo caso. Incolla. Allora, cosa succede? Numbers praticamente ricalcola, praticamente fa i cosiddetti riferimenti relativi, cioè relativi nel senso che la colonna B, in questo caso, diciamo, relativa al primo quadrimestre, quando facciamo il, quando diamo il comando di incolla, viene automaticamente ricalcolata come colonna C nella cella dove stiamo, quindi è come se avessimo scritto uguale, media, aperta parentesi, C2, due punti, C14, chiusa parentesi. Ha fatto tutto da solo. Adesso cosa facciamo? Andiamo con V freccia sinistra alla colonna precedente, e poi andiamo di nuovo a destra, V freccia destra, secondo quadrimestre 7,85, risultato formula. Come capite, ha aggiornato e ha ricalcolato il tutto da solo, cioè nel senso senza bisogno di ridigitare noi, diciamo, anche la semplice formula che avevamo inserito prima. Chiudo il, questo foglio di calcolo e ne apro un altro, perché voglio farvi vedere che questa possibilità di calcolare lo si può fare anche con le date. dobbiamo avere delle accortezze, però, insomma, si può fare anche con le date. Command N non vi sto a specificare. Adesso noi, diciamo, formattiamo un paio di celle in formato data, quindi io faccio Shift freccia destra e vado... B2 C2, anzi, andiamo fino a C3. Magius a bundare qua un deficere. Vo J e andiamo... Selezioniamo la cella... Sto andando molto veloce... Data e ora... Selezioniamo... Ora, nessun riempimento. Ora, 05-01-24. Menù, venerdì, 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 cinque gennaio, duemila, venti, cinque gen, cinque gen, cinque gen, cinque barra, una barra, duemila, 05-01-2024. Cinque gennaio, duemila, venti... Questa è la data che più mi aggrada. Adesso andiamo sull'ora. Ora. Ora. 19-8. Ora. Puls... 05-0. 05-0. 19-8. Ora. Pulsante ha comparsa. Pulsante. Nessuno. 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 Scegli come visualizzare l'ora... Allora, l'orario lo eliminiamo. Vo Shift e freccia su. Usciamo dall'interazione. Fuori da formattazione. Fuori da formattazione. Gruppo. E andiamo di nuovo nel foglio di calcolo. Foglio 1. Navigatore fogli. Foglio 1. Sfondo piano. Interagiamo. Foglio 1. Sfondo piano. E andiamo a inserire una data. Allora. Scriviamo la data di oggi. Ma semplicemente questa. Quella di oggi. Quindi 7. Cursore alla fine del testo. Stile tabella 2. 7. 7. Azioni disponibili. Poi trattino. 7. Trattino. Stiamo a giugno. Quindi. 6. 6. Trattino. Trattino. E 24. 2. 4. 24. Do invio. Anzi, vado alla cella adiacente a destra. Colonna C. Torniamo indietro. Colonna B07-06-2024. Ecco qui. 7 giugno. E adesso su questa colonna C. Io gli dirò. Uguale a. Scriviamo sempre la formula. Edito formula. Campo di testo modificabile. Quindi è B2. 2. 2. 2. Meno. 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 Possiamo. Meno. Così. Un calcolo molto semplice. 30 giorni. Allora. Scriviamo. 3. 0. 30. Vediamo cosa ci dice. Tabella 1. 22. Rive. 7 colonne. Tabella. Allora. Ho dato indio. Quindi. Devo tornare su. Con la freccia su. Colonna C08-05-2024. Risultato formula. Ci ha detto. L'8 maggio 2024. Perché ha tolto 30 giorni. Non un mese. Quindi non 7 maggio 2024. Bensì proprio un 30 giorni. Un'altra cosa che possiamo utilizzare. Lo facciamo alla colonna adiacente. Alla colonna D. Possiamo utilizzare. Come dire. Delle funzioni specifiche. Per dire. Se noi. Io. Se invece di scriverla a mano. La data di oggi. Avessi scritto. Oggi. Allora. Uguale. Edito formula. Campo di testo modificabile. E avessi scritto. O. O. B. G. G. Oggi. Parentesi destra. Chiusura della funzione oggi. 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 Allora. Scriviamo. Qui. Meno. Parentesi destra. Chiusura della funzione oggi. Meno. Meno. E scriviamo lo stesso. 30. Così. Verifichiamo. 3. 0. Tabella 1. Colonna D 08 barra 05 barra 2024. Risultato formula. Mi ha scritto la stesso valore della colonna a fianco. Adesso vi faccio vedere. Vado a sinistra. Colonna C 08 barra 05 barra 2024. Risultato formula. Io per esempio posso anche aggiungere oltre che sottrarre diciamo a una data un determinato numero che è il numero di giorni. L'accortezza che vi dicevo all'inizio da avere è che la cella dove far fare i calcoli con le date deve essere formattata in formato data. Allora sono quindi possiamo far fare calcoli numerici proprio con numeri in senso stretto. Calcoli con le date. Come vedete certo abbiamo fatto degli esempi molto semplici. Sta a voi andare a come dire diciamo individuare cosa può esservi utile poter e poter fare con questo potentissimo strumento. Allora abbiamo visto come inserire una formula digitandone proprio la struttura all'interno di un'ucella per far calcolare nello specifico la media. Adesso io ho chiuso il foglio la tabella che avevamo sotto mani e ho riaperto il prospetto voti dell'ipotetico alunno di scuola superiore con appunto tutti i voti che ha preso nel primo e secondo quadrimestre nelle varie materie. Perché voglio farvi vedere una modalità molto più semplice per far calcolare la media senza doverne digitare la formula. Allora la tabella se ve lo ricordate nella prima colonna a sinistra c'era l'elenco di tutte le materie poi avevamo due colonne una con la votazione con le votazioni del primo quadrimestre e la seconda colonna a destra del secondo quadrimestre. Adesso io mi sposto e vado con le frecce sulla colonna del primo quadrimestre quindi freccia destra poi se vi ricordate il comando command option freccia giù ci porta all'ultimo elemento contenente dati della colonna con la freccia su ci porterebbe al primo ma già ci siamo media 6,69 risultato formula e ci ha detto ci ha portato appunto all'elemento alla formula che avevamo digitato sopra questa cella c'era una cella c'è una cella vuota riga 15 eccola qui riga 15 non ci dice altro e qui voglio farvi vedere come inserire tramite una voce da barra dei menu appunto la stessa formula che avevamo inserito sotto però automaticamente quindi vo m intanto andiamo nella voce inserisci quindi ci spostiamo a destra e scendiamo giù è una delle ultime voci quindi vado relativamente veloce formula sotto menu essendo un sotto menu con vo freccia destra o solo con la freccia destra andiamo nel sotto menu sentite formula sotto menu somma somma media media minimo massimo conteggio prodotto e il prodotto quotazione azionaria e poi qui c'è una formula per la quotazione azionaria per chi diciamo gioca in borsa nuova formula oppure nuova formula la dobbiamo poi digitare noi allora torniamo su e andiamo fino a media quotazione prodotto conteggio massimo minimo media vo spazio vuoto cella azioni disponibili premi comando per passare da una modalità di rientrimento e adesso quindi utilizza i tasti freccia adesso ci spostiamo per far diciamo aggiornare il contenuto della cella stessa media 6,69 risultato formula questa è la formula è il risultato della formula che avevamo digitato e sta perché ho dato invio e sta nella cella sottostante io adesso torno su sentite una cosa diciamo sentirete un numero tra virgolette particolare perché perché la cella non è è stata formattata rispetto a questa dove stiamo quindi freccia su riga 15 6,69 trilioni 230 miliardi 769 milioni 230 mila 769 risultato formula perché perché il numero di decimali in questa cella era stato lasciato automatico come possiamo fare formattando la formula stessa cioè la cella stessa con vo j andiamo andiamo selezioniamo interagiamo allora il famoso pulsante a comparsa lo diciamo potremmo anche solo andare a scegliere il numero di decimali ma andiamo proprio alla voce numero ecco qua poi spazio mi sono spostato adesso con vo freccia a destra decimali qua c'è scritto automatico autom e io invece metto due due decimali soltanto ne potrei mettere anche solo uno anzi ne mettiamo uno soltanto uno uno selezionato e poi usciamo dall'interazione fuori da formattazione gruppo foglio uno sfondo bianco sono andato a sinistra adesso e adesso interagisco adesso andiamo a far rileggere muovendoci attraverso la tabella con le frecce attraverso la tabella e sentiamo primo quadrinestre 7 questa è la voce l'ultimo voto tra virgolette preso in condotta tra l'altro era riga 15 6,7 risultato formula 6,7 sentite quello sottostante che era quella della formula che abbiamo digitato media 6,69 risultato formula 6,69 perché quando mettiamo un solo decimale arrotonda in eccesso in difetto in base appunto al numero ma io voglio farvi vedere anche un'altra cosa adesso con command option freccia su primo quadrinestre c'è la intestazione siamo andati alla diciamo alla colonna delle intestazioni e andiamo invece a destra dove c'era c'è una voce che ho chiamato lo stesso media media c'è la intestazione colonna c'è la e uno che è una colonna dove in teoria posso calcolare la media tra il primo e il secondo quadrimestre certo sono soltanto due voti però insomma se diciamo come dire il riquadro fosse più complesso sarebbe ancora più come dire interessante fare questa cosa scendiamo giù italiano ci dice italiano non ci dice altro e qui possiamo inserire con la stessa modalità di prima la media vo m andiamo a inserisci e scendiamo giù velocemente sottomenu freccia destra media invio perché 6,5 ma è normale perché questo alunno diciamo così ha preso al secondo 7 al primo 6 quindi la media è proprio 6,5 allora un'altra cosa che avevamo visto era quella di copiare da una cella ad un'altra e la possiamo fare anche per colonne sentite command freccia destra media 6,5 risultato formula allora faccio do il comando per la copia command c e poi matematica poi vado su diciamo le celle che sono vuote in questo momento per far calcolare tutte le medie quindi shift freccia giù e vado a selezionare le varie celle aggiunto alla selezione dai 3 ai 6 aggiunto alla selezione dai 3 ai 9 selezionato vi ricordate le righe diciamo dove sono presenti la materia era fino alla riga 14 aggiunto alla selezione aggiunto alla selezione dai 3 ai 12 aggiunto alla selezione dai 3 ai 12 selezionato aggiunto alla selezione dai 3 ai 14 selezionato ecco qua e qui faccio un bel command V incolla e adesso andiamo a verificare con la freccia su italiano 6,5 risultato formula è andato alla cella soprastante dopo avevamo selezionato tutta la colonna in pratica si può dire cioè tutte tutte le celle presenti e quindi quando ho dato il comando di freccia su si è posizionato sulla prima cella e in questo caso era quella di italiano adesso scendiamo giù sentite matematica 8 risultato formula latino 6,5 risultato formula greco 7 risultato formula capite? ha come dire aggiornato ha ricalcolato mediante riferimenti cosiddetti relativi spero di essere stato chiaro in questa mia spiegazione Filippo De Santis per Orbolandia vi saluta e vi da appuntamento a un prossimo tutorial in descrizione trovi il link all'articolo su Orbolandia con l'opportunità di scaricare direttamente le applicazioni o documentazione di supporto a questo video iscriviti qui di seguito sul nostro canale per essere avvisato in tempo utile quando pubblichiamo nuovi contributi alla prossima